L'amministrazione comunale di Battipaglia istituisce l'ufficio Superbonus 110%. Alla base del provvedimento la necessità di non rallentare l'applicazione di un'importante misura pensata e finanziata per la ripresa economica del Paese. All'ufficio sono stati affidati i compiti di supporto ai cittadini sul tema degli incentivi fiscali previsti dal decreto rilancio, ma soprattutto di gestione delle numerose richieste di accesso di archivi documentali cartacei da parte dei tecnici libero professionisti abilitati. L'ufficio sarà operativo a partire dalla prossima settimana nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.